Terza giornata del tredicesimo congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano Terme, siamo in compagnia di Alessio Di Carlo, segretario dell'associazione Radicali Abruzzo, è un'associazione per introdurre in termini non troppo ufficiali, più ufficiosi, però c'è qualcuno che vorrebbe che questa associazione si estinguisse, oppure si è fatta delle domande in direzione, è un'associazione in via di estinzione? Diciamo che lo chiediamo in via in ufficiale, più che ufficiale o non ufficiale, è una delle associazioni ma non è l'unica naturalmente, che suscita qualche nervosismo eccessivo secondo me, perché non si capisce perché le associazioni che poi sono previste dallo statuto di Radicali italiani, destino tanti nervosismi, ma è capitato perfino che la segretaria si sia chiesto come mai questa associazione si chiamasse Radicali Abruzzo in questo modo, suscitando una sorta di confusione, potendo all'esterno rappresentare come l'associazione ufficiale dei Radicali in Abruzzo, profitto di Liberi TV, lo dichiaro Urbi e Torbi che Radicali Abruzzo rappresenta 21 persone che sono ad essa iscritte e sono radicali, non ha nessun'altra pretesa, se poi in regione ci sono altri compagni che fanno attività radicale, la cosa naturalmente non può che farci piacere, preciso che Radicali Abruzzo si sarebbe dovuta chiamare, questa è una cosa che pochi sanno, anche perché immagino che a parte pochi che hanno una fobia verso l'associazione, nessuno si è interessato, si chiama Radicali Abruzzo ma si sarebbe dovuta chiamare l'associazione Radicali Antonio Russo, all'epoca la madre mi pare o il cugino di Antonio Antonio Russo è un giornalista di Radio Radicale che è morto mentre svolgeva il suo lavoro in Cecenia ed era abruzzese. Era di Francavilla al mare, noi ogni anno come Radicali Abruzzo lo ricordiamo, comunque nel 2000 appunto e quindi non vollero e quindi l'associazione fu tolta quella parte, si chiamò in questo modo. Chi si domanda a che cosa serva, se è indispensabile, anzi era la domanda, ma naturalmente no, non ci mancherebbe, nessuno è indispensabile figurarsi Radicali Abruzzo, però è utile per chi voglia fare politica radicale in Abruzzo o anche no, chi la voglia fare in via, in forma autonoma, la faccia in forma autonoma. Perfetto, peraltro dobbiamo dire che questa associazione che abbiamo sentito, e Alessio Di Carlo abbiamo sentito su Libri TV come non altrove, si è impegnata sul territorio, come un'associazione territoriale, mi sembra che sia opportuno faccia, in occasione delle elezioni comunali a Pescara, proponendo con una lista civica, partecipando a una lista civica, che si chiama Per la Grande Pescara, che era un progetto, già nel nome Per la Grande Pescara, rievoca una tematica radicale relativa un po' all'organizzazione, non unico urbanistica, ma amministrativa, cioè la riunificazione di alcuni comuni, perché c'era anche un referendum che si sarebbe celebrato insieme alle amministrative, però su questo Radio Radicale non si è saputo. No, su Radio Radicale non si è saputo, grazie a Libri TV, gli ascoltatori, i telespettatori di Libri TV lo hanno potuto sapere, anche questa cosa, Gianni, ha destato un mucchio di critiche in certi ambienti, che poi anche questa cosa non si capisce bene, perché il solo fatto che l'associazione Radicale Abruzzo abbia partecipato in un'esperienza elettorale è stata ritenuta, viene ritenuta assolutamente una cosa da denigrare. Poi però capita magari che altri esponenti di altre associazioni, penso alla Lucania, che ha un'associazione che si chiama Radicali Lucani, tra l'altro lì non ho sentito problemi di possibile confusione tra l'associazione e la rappresentatività ufficiale in regione. Ma al di là di questo, mi ricordo che quando uno dei numerosi componenti dell'associazione Radicali Lucani partecipò alle elezioni regionali, mi pare che ci fu questa levata di scudi. Quindi il fatto che venga ritenuta così scandalosa la volontà di partecipare a delle elezioni locali, onestamente non lo capisco, tanto più che se, detto con tutta franchezza, se avessimo avuto reali velleità di elezione nel Consiglio Comunale di Vescara, forse ci saremmo candidati in liste che avessero avuto maggiore appeal che non la nostra, che era una lista composta di persone radicali e non, ma tutte le prime esperienze. Perfetto, peraltro appunto abbiamo, mi pare, sentito dire che è nella nascita o sta nascendo, è nata, anche Marco Pannella non è che sia stato molto chiaro su questo, ma insomma un'altra associazione lì in Abruzzo, penso intitolata a giustizia e amministrazione e libertà, anzi amministrazione e giustizia e libertà, quindi un nome che rievoca chiaramente una lista elettorale e quindi auguri ai nuovi nati. Perfetto, allora io mi sento di dire anche lunga vita a radicali Abruzzo. Amministrazione, giustizia e libertà, fammi fare una precisazione perché anche qui, io ma anche a tanti amici di radicali Abruzzo, ritengo che l'esperienza di amministrazione, giustizia e libertà, naturalmente sacrosanta per me dal punto di vista di radicale quale sono, avesse l'unico limite di non esaurire il mio essere radicale, cioè io ritengo che come offerta politica la formula amnistia, giustizia e libertà non comprendesse le varie sfaccettature del mio essere radicale, tanto più che veniva declinata, viene tuttora declinata tutta la faccenda giustizia in termini riferiti alla giustizia penale. Tu sai che anche in questo congresso abbiamo cercato, cerchiamo invece di aprire una finestra sulla giustizia civile, perché lo dicevo l'altro giorno in commissione, io da radicale credo nella giustizia giusta e non nella giustizia penale giusta, nella giustizia giusta tutta. Perfetto, ricordiamo anche, anzi lo diciamo perché non l'ho detto, che Alessio Di Carlo è avvocato, quindi in qualche modo operatore del diritto e quindi i suoi pareri su questo sono anche qualificati. In chiusura quindi auguri a Radicale Abruzzo, lunga vita, anche perché è un'associazione che abbiamo seguito su LibriTV nei vari congressi, se io non sbaglio gli ultimi due o tre addirittura, quindi mi ho fatto delle trasferte a Pescara, un posto stupendo. Devo fare un appello a tutti quelli che non sono interessati, non iscrivetevi a Radicale Abruzzo. Perfetto, con questo appello chiudiamo, grazie ad Alessio Di Carlo. Grazie.